Ragazzi, non ci crederete, ma mi è arrivato il nuovo DJI Mini SE 2. Eccolo! Ti piacerebbe, cara Potensic. Peccato perché questo nuovo Potensic Atom SE, avete capito che furbacchioni, sarebbe potuto essere davvero il successore del DJI Mini SE, che ormai è difficilissimo da trovare in vendita, ma purtroppo ci sono un paio di difetti molto importanti che analizzeremo insieme. Ma attenzione perché potrebbe comunque essere un drone interessante. Vabbè, detto questo, scopriamolo più nel dettaglio, ne vale la pena. Potensic, un marchio abbastanza controverso per quanto mi riguarda. Producono droni di fascia medio-bassa da anni su Amazon. Si trovano facilmente, trovate anche lui a questo prezzo. Con il coupon attuale viene 299 euro, che è esattamente il prezzo del DJI Mini SE, ma qui abbiamo due batterie e la borsa, quindi un aspetto da non sottovalutare. Ma diciamo che il prezzo è ancora un po' alto. Ora capirete anche voi. Controverso, dicevo, perché potenzialmente potrebbe essere molto interessante. Fa droni carini, ottimi anche i radiocomandi, ispirati un po' a Fimi, però si perdono sempre nel reparto fotografico, specialmente con i gimbal. Infatti, il difetto principale di questo Atom SE è che non è dotato di un gimbal. Ed è un problema. Quasi inutile dirvi che la confezione ricorda tantissimo quella dei droni DJI e anche l'estetica del drone, un piccolo drone pieghevole da 249 grammi, dal nome Potensic Atom SE. Drone non utilizzabile da bambini ma dai 14 anni in su, caratteristiche tecniche sotto i 249 grammi, 31 minuti di autonomia in volo, niente male, tecnologia di controllo radio PixSync 2.0 che garantisce fino a 4 chilometri di range di controllo in HD ad alta risoluzione, CAM 4K 30fps con stabilizzatore ACE con tecnologia Shake Vanish, abbiamo la VPU GPS e Surge Fly, una sorta di modalità di volo super veloce, e resistenza al vento di livello 5. Ah, caratteristiche interessanti, se avesse avuto anche un gimbal sarebbe stato davvero il top a questo prezzo. Vabbè, apriamo la confezione e vediamo cosa contiene. Degli avvertimenti su come utilizzare e come non utilizzare il drone. Alcuni controlli dell'applicazione, questo drone è anche il follow me, lo vedremo tra un istante. Una piccola guida rapida con il QR code per scaricare l'applicazione su ARC, iOS e Android, configurazione del radiocomando, e qui dentro abbiamo la borsa con il drone. Borsa molto carina, non è particolarmente rigida, è tutta in tela, comunque mi sembra resistente, c'è il manico, i ganci per la tracolla, è piena di tasche, ed ecco qui come si presenta l'interno. Un bel manualone di istruzioni, guardate quante pagine ci sono, se siete totalmente inesperti di questo mondo, avete comprato questo drone, leggetevelo, mi raccomando, è molto importante, e vi dà anche dei consigli di volo. Il radiocomando, davvero carinissimo, mi ricordo un po' quello del Fimi X8 Mini, con queste due antenne, antenne entrambi reali, per capirloci basta vedere se c'è il cavo che passa all'interno, ed è presente il cavo fortunatamente. Guardate quanto è carino, batteria integrata, con quattro led di carica, si apre in questo modo, e penso possa cogliere anche dei piccoli tablet da 7 pollici, c'è un bello spazio, per farvi capire il mio smartphone è un Samsung S22, e ci entra con abbastanza spazio residuo. Gommata, la parte interna in cui va ad adagiarsi lo smartphone, sono delle piccole chicche, gli stick di controllo, sono posti qui in basso, e vanno avvitati. Allora, non sono gli stick più duri che io abbia mai visto, hanno una buona sensibilità, un bel ritorno, un bel feedback, non c'è molta corsa, sono piccolini, però non sono malvagi. Ho visto di molto peggio, ho visto di meglio, però ci possono stare ragazzi, assolutamente sì. Qui abbiamo il tasto per accendere il, radiocomando, anche un cicalino interno, quattro led di carica, tasto per interrompere la smart fly, oppure per abilitare il ritorno a casa automatico, cavo, ingresso, perdonatemi, di ricarica USB type C, non male, finalmente non c'è più il micro USB, in alto abbiamo il tasto per registrare i video, il tasto per scattare le foto, quindi tasti differenziati, e il tasto per inclinare la cam, non è un vero gimbal ragazzi, è solo un monoasse per inclinare. E' tutto qui, non abbiamo altri comandi, un radiocomando molto semplice, quindi adatto per chi inizia a volare, è impossibile sbagliare ragazzi, ci sono praticamente quattro tasti, e una ghiera, e due levette, basta, vi basta posizionare le antenne verso il drone, e il gioco è fatto. Ok, tra un attimo magari andremo a vedere anche la sua applicazione, però intanto continuiamo a vedere cosa contiene la borsa, c'è anche la tracolla, batteria aggiuntiva da, non so se riuscite a leggere, 2500 mAh, mi ricorda molto quella del, appunto, DJI Mini SE, ed è il primo DJI Mini, anche questa batteria si ricarica con l'ingresso USB-C, c'è una sorta di velcro e tessuto che protegge il drone, intelligente ragazzi, anche la borsa è realizzata con del criterio, ok, all'interno non c'è nient'altro, ah no ragazzi perdonatemi, c'è anche la seconda batteria, in un altro scompartimento, vabbè, è uguale, identica all'altra, ok, quindi abbiamo due batterie, e qui dentro penso ci sia il drone vero e proprio, che non ha un coprigimble, perché non ha un gimbal, ma questo velcro, molto rudimentale ragazzi, però funzionale alla fine, l'ho torcigliata attorno alle eliche, e mi tiene le eliche coperte, non è il massimo da vedere, però, ehi ragazzi, cioè, è intelligente, è una costa semplice, non dovete stamparlo in 3D, lo appiccicate, la torcigliata attorno al drone, e funziona, non c'è la batteria all'interno del drone, quindi ce ne sono solo due, comunque è buono per una dotazione base, abbiamo un'estetica, che perdonatemi se lo ripeto, ma è lampante, ricorda tantissimo il DJI Mini, con la parte inferiore, con queste griglie da reazione, VPU, con tanto di fotocamerina, e sensori vari, nella parte superiore abbiamo la scritta Potensic, frontalmente questa, questa, questa frontalino, che in realtà è finto, non ci sono sensori all'interno, la cam, che è anche buona, si tratta di un sensore, Sony a 12 megapixel, sulla carta interessante, però guardate, è fissa, non è stabilizzata, dannazione, vabbè, andiamo ad aprire i braccini, indipendentemente posteriori o anteriori, potete fare come volete, braccini con, penso le antenne posizionate qui all'interno, una buona bassa di appoggio, ma tra l'altro è già marchiato ragazzi, guardate, non solo CE, ma anche questo piccolo 0, fortunatamente, sotto la batteria abbiamo l'ingresso per la micro SD, questo drone salva sulla memoria esterna, e non i streaming sullo smartphone, per fortuna non andremo a sacrificare la qualità della cam, andiamo a inserire una batteria, poi c'è questo piccolo tastino per rimuoverla, qui dice rimuovere, prima dell'utilizzo, ah ok, c'è una piccola protezione in gomma piuma, andiamo ad accenderlo tramite il tasto posto qui in basso, cosa vi ricorda questa posizione, vabbè, comunque, non accende, è totalmente scarico, ok, ho messo una batteria in carica, intanto andiamo a vedere quanto pesa questo piccolo drone, esattamente 244.2 grammi, peso niente male, senza batteria, siamo invece a 142 grammi, la sola batteria, 101 grammi, quasi 102, e già che ci siamo, perché non guardare anche la sua applicazione Potensic, si presenta in questo modo, vi faccio notare che abbiamo i registri di volo, sempre molto graditi, con la durata del volo, la distanza, la velocità massima, e l'altezza, proviamo ad accedere all'interfaccia, la vocina è in italiano ragazzi, tradotto completamente in italiano, quindi niente male, vediamo cosa troviamo, in alto abbiamo i satelliti agganciati, la qualità del segnale, la memoria residua, a sinistra abbiamo il tasto per il take off, con lo swipe, esattamente come i droni DJI, comunque applicazione che non mi sembra malvagia, qui ci sono le smart fly, e segnalo che la traduzione italiana è sì presente, ma non è il massimo, ok, modalità senza testa, address mode, modalità disblocco, non lo so, modalità atteggiamento disattivata, modalità circondata, che sarebbe la circle mode, volo, waypoint, e anche il follow me, che non è niente male come funziona, e vi ricordo che il mini SE, il mini 1 e il mini 2, non hanno il follow me, lo proveremo poi nella seconda parte, di questa recensione, in alto a destra abbiamo, perdonatemi le impostazioni, modalità principiante, modalità principiante, l'aeromobile volerà solo a velocità limitata, entro a un raggio di 30 metri, attorno al punto di partenza, ottimo, quindi per chi inizia, possiamo impostare limiti di altezza e distanza, altezza fino ai 120 metri, altezza massima legale, ve lo ricordo, distanza massima 4000 metri, magari faremo anche un range test, fatemi sapere se vi interessa, tre velocità, un po' come la cinematic, normal e sport del DJ, qui abbiamo video, normal e sport, impostazioni per il circle mode, sostanzialmente il raggio e la velocità, nella seconda tab abbiamo le calibrazioni varie, modalità di volo 1 oppure 2, lo stato della batteria, è davvero poco altro, unità, soluzione dura, oddio ho paura di scoprire di cosa si tratti, su, invece sarebbe la versione installata su drone, radiocomando e applicazione, ok questa è l'app, c'è anche il GPS come vedete, ah c'è anche la mappa radar, ok non è male devo dire, pensavo molto peggio, vedremo poi come si comporta in volo, perdonatemi amici perché, ho ripreso la borsa che tra l'altro è marchiata Potensic, c'è anche questo scomparto qui in alto, un po' nascosto, con questa piccola zip, dove ci sono gli accessori, delle eliche di ricambio, con il cacciavitino e la vitarella, ragazzi non ve le ho neanche mostrate, perché sono le classiche eliche da drone da DJ mini, quindi doppia elica, sono separate, con il motore brushless, e la vitarella da avvitare e svitare, per la manutenzione, cavo di ricarica, trasferimento dati, USB USB Type-C, e i soliti tre cavetti, per collegare lo smartphone, al radiocomando, ecco come si presenta alla fine il radiocomando, con lo smartphone al suo interno, resta comunque molto leggero ragazzi, davvero un peso più, ma anche questo radiocomando, e l'ergonomia è ottima, mi sembra quasi un controller per videogiochi, una Steam Deck, insomma, mi piace, cioè mi sono sempre piaciuti i radiocomandi, con i controlli orizzontali, più che verticali, vediamo anche quanto pesa, per curiosità, il radiocomando, ecco, pesa meno del drone, siamo a 236 grammi, reinseriamo la batteria che sono andato a caricare, e proviamo ad accendere il drone, ecco, solito cicalino di questi droni, abbiamo un led, qui nella parte posteriore, che cambia colore, e nessun altro led, diciamo che un paio di led aggiuntivi sui braccini, avrebbero potuto aggiungerli, vi faccio vedere che il gimbal non è assolutamente stabilizzato, come vedete è possibile inclinare il gimbal, e purtroppo sì ok, si inclina anche leggermente in alto, ma manca totalmente di sensibilità, e per qualche motivo è più veloce quando va in basso, piuttosto che quando va in alto, ecco, queste sono le piccole cose che purtroppo, segnano un grosso gap tra DJI e gli altri marchi. Prima non ve le ho mostrate, comunque vi mostro le impostazioni della cam, abbiamo la griglia, la filigrana, l'esposizione, segmentazione video, ovvero quanto dura una singola clip, da 1 fino a 5 minuti, possiamo anche disattivarla, non male, risoluzione 4K a 30 fps, fino al Full HD a 60 fps, format micro SD. Ragazzi, peccato, peccato davvero, sono arrabbiato quando ve lo dico, perché questo drone mi ha trasmesso delle sensazioni davvero positive, il Potensic Atom SE sarebbe potuto essere una valida alternativa al DJI Mini SE, specialmente ora che è difficilissimo da trovare in vendita, cioè guardate che bel radiocomando hanno tirato fuori, che bella dotazione di accessori, e anche il drone in sé, per quanto spudolatamente è copiato esteticamente al DJI Mini, è ben fatto, anche i materiali sono buoni, ma si sono persi nell'aspetto più importante, la stabilizzazione, magari lo stabilizzatore Ace digitale sarà tanta roba, però lo sapete come funziona, non croppano l'immagine, non sarà mai la stabilizzazione di un gimbal meccanico vero e proprio, e anche la sensibilità di rotazione della cam, è davvero troppo troppo, accentuata, non so se magari con un aggiornamento si può risolvere, però si sono persi davvero in un bicchier d'acqua, mi sarebbe andato benissimo anche il prezzo di 299 euro, attualmente con il coupon il prezzo è questo, ma così no, in questo stato lo avrei venduto ad un prezzo più basso di 200 euro, ecco 200 euro per questo drone, se vola bene, se scatta belle foto come penso, e lo scopriremo nel prossimo video, ne sarebbe valsa la pena, però 300 euro, o 350 senza sconti, è un po' tanto. Vabbè ragazzi, che dirvi, occasione persa, beh, parzialmente sì, Potensic si sarebbe potuta riscattare con questo Atom SS, sarebbe bastato un piccolo gimbal, magari anche due assi, ragazzi, lo so si dice gimbal, ma si può dire anche gimbal. Ok, il drone si è spento, quindi ha una funzione di spegnimento automatico, vabbè, non lo so, posso aggiungere, che è una parziale occasione sprecata, non so perché i produttori di droni si perdano così in un bicchier d'acqua, anche perché avete fatto tanto per creare un drone con queste caratteristiche interessanti, appetibile, poi andate a trascurare l'aspetto più importante. Non so davvero cosa pensare ragazzi, vabbè, aiutatemi voi con un bel commento qui sotto. Se volete dare un'occhiata alla pagina prodotto di questo drone, per acquistarlo, perché magari è il vostro primo drone, non volete spendere cifre esagerate, 299 euro può essere una buona cifra d'ingresso, se non si riesce più a trovare il DJ Mineser, e vi lascio i link qui sotto in descrizione ai video. Dateci un'occhiata perché trovate anche link per diversi accessori che vi consiglio, come microSD, bassi di atterraggio, eccetera, eccetera, oltre ai link per il mio gruppo Facebook, Droni e Tecnologia Italia, il più grande gruppo italiano dedicato al mondo dei droni e non solo. Vabbè, detto questo, io sono curioso ora di provare in volo questo Potensic Atom S, cerchiamo di capire se i 31 minuti di volo dichiarati sono reali, oppure no, se il follow me funziona bene, oppure no, se la cam è decente, oppure no. Per tutto questo, vi rimando al mio prossimo video. Nel frattempo, dite la vostra con un bel commento, sarò felice di rispondere a tutte le vostre domande, e discutere insieme a voi di questo drone. Io ora vi saluto, e vedo appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addictus to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi, e buon volo! Grazie a tutti! Grazie a tutti.